John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti e benvenuti in quello che sarà un video veramente, veramente tanto, tanto faticoso per me, ovvero la tier list delle peggiori sconfitte della storia recente della Roma. Ma recente, cioè sconfitte alle quali io posso attingere, mi posso ricordare, posso cercare di dirvi che cosa ne penso senza dover necessariamente diventare scemo perché non mi ricordo magari com'è andata, quindi questo qua. Prima di iniziare però se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare tantissimi mi piace e di supportare questa serie se volete ovviamente sempre più tier list anche con altri influencer. Detto questo partiamo subito e vi faccio presente subito quali saranno i gradini della tier list, quella più alta e ne vado fiero, cioè quella posizione in cui posso anche accettare, posso anche accettare che sia andata così, che comunque resta pur sempre una figuraccia, però è accettabile perché magari il percorso o qualunque altra cosa mi ha reso fiero di quella partita o di quella situazione. Poi abbiamo capita, cioè quelle situazioni in cui non è bello, cioè è stata una figura di merda, però in una storia di una squadra può anche capitare che succeda una cosa del genere. Vi faccio un esempio, che so, la Lazio che per una volta perde 4-0 con il Chievo, è una bella figura di merda, però può anche capitare. Poi abbiamo proprio che figura di merda, che è appunto la situazione di Emilio Fede, è una figura di merda tutt'altro che positiva. Poi Laziale, cioè un risultato, no più che Laziale io metterei tipo che ne so, vorrei sotterrarmi, vorrei sotterrarmi, cioè una situazione in cui appunto ho pensato di sotterrarmi e infine 26 maggio, cioè una disfatta, e questo ovviamente è storica, per quanto ricorda la storia della Roma, oggettivamente per quanto vogliamo dire non è disfatta storica, non è disfatta storica, è stata una disfatta storica. Cercando le varie figuracce recenti della Roma, vi devo dire che la cosa che mi ha fatto impressione, che mi ha fatto strano, è che non ne ho trovate tante, cioè spesso ho fatto più dramma di quello che realmente era, perché sono citato da solamente 14 partite che potessero rientrare in questo schema, però di queste 14 partite alcune sono veramente delle brutte figure, ragazzi. Cioè noi abbiamo quelle 10 figuracce, non 40, 10, ma sono veramente delle brutte figuracce, e quindi già mi aspetto che appunto potremmo arrivare ad averne tante in 26 maggio, anche se poi deve essere sempre considerata come una caporetto. Si parte da Manchester United Roma, che è questa qua, che voi vedete, questa qua, Manchester United, la prima, la prima eccola qua, ve la muovo, ve la faccio vedere, Manchester United Roma a 6 a 2. È molto, molto, molto recente questa, è molto recente perché è quella appunto della 2020, quella dell'Europa League in cui noi usciamo perdendo 6 a 2 già all'andata e quindi siamo praticamente fuori, certo con un 4 a 0 avremmo potuto ribaltarla, ma era praticamente impossibile. Allora, vi dico chiaramente, la Roma arriva lì, arriva in semifinale di Europa League dopo due anni della semifinale di Champions, l'ottavo di Champions l'anno prima, l'anno dopo poi uscirà se non sbaglio con il Siviglia e poi l'anno dopo vincerà la Conference League. Questa è una figuraccia, è una figuraccia anche se poi non mi sento di metterla in magari tasselli di playlist esagerati, vi spiego anche il motivo. Lo metto in che figura di merda? Non è una cosa che capita, prendere i 6 gol non è una cosa che capita, 6 gol non vanno presi, quindi non può capitare, non capita, a noi capita, ma non può capitare. Il problema qual è? Il problema è che quella partita ha una storia particolare, lo United in principio già è molto più forte di noi e quindi parte favorito. La Roma si fa valere, fa valere le sue carte, gioca per provare a vincere la partita, poi però gli se rompono tutti se non sbaglio in quella partita nel primo tempo ce ne rompono tre, cioè non riusciamo a reggerci in piedi e praticamente l'avevamo già bella che persa prima di cominciare. Al ritorno proviamo a ribaltarla, non ci riusciamo, finisce forse 3 a 1 per noi, forse 3 a 2, non ricordo. Fatto sta che ci abbiamo provato ma era praticamente impossibile, però prendere i 6 gol non è accettabile. Il percorso fino a lì era buono perché la Roma aveva dimostrato di saperci stare, di fare un ottimo percorso, avevamo eliminato diverse compagini super interessanti, però 6 a 2 è comunque una figura di merda. Detto ciò io sto vedendo che questa delle due è, se non sbaglio, l'ultima, cioè quella contro lo Spezia del 2021. Questa ragazzi è vorrei sotterrarmi. Cioè, cosa succede con lo Spezia? In Coppa Italia becchiamo lo Spezia, già abbiamo la nostra paura per quello che era già successo qualche anno prima, la Roma che usciva con lo Spezia ha i calci di rigore, forse questa è proprio quella dei calci di rigore, forse sì, non lo so, vabbè, fatto sta che consideriamo questa come quella del 2020. Allora, del 2020 o 2021? 2021, cosa succede? Che la Roma comincia a prendere rossi su rossi, che finisce a giocare i supplementari contro lo Spezia, in una delle partite che dovrebbe essere una cosa semplicissima, praticamente in 9 contro 11, in 8 contro 11, cioè sembravamo una squadra di carcetto in un campo a 11, vabbè che in meno si gioca meglio, ma manco a fa così, ma soprattutto non solo succede questo, succede che la Roma fa anche 7 cambi, cioè quindi noi perdiamo quella partita, ma poi l'andiamo comunque a perdere a tavolino 3-0, cioè praticamente è stata una figura di merda pazzesca, storica, 7 cambi non si possono fare, raga, 7 cambi non si possono fare, cioè è qualcosa di impensabile, e lì in qualche modo siamo entrati nella nostra storia negativa, quindi sinceramente sì, dopo quella partita lì avrei voluto sotterrarmi, però non finisce qua, non finisce qua perché c'è Fiorentina-Roma, 26 maggio. Questa regà è una partita di quelle che a mio avviso non si può, non si può, assolutamente non si può mettere più in alto di così. 7-1 contro la Fiorentina una disfatta, Coppa Italia, tu avevi la possibilità di passare contro una squadra attrezzata, ma manco troppo, non avevano calciatori straordinari o comunque ne avevano pochi, tu la affronti, vai lì, vai a giocare al Franchi, 7-1 ragazzi. Io non capisco, perché non capirò mai le figuracce fatte contro altre compagini, altri 7-1 molto molto pesanti, però un conto è non capire figuracce di questo tipo, un conto è perdere 7-1 contro la Fiorentina, una squadra normalissima, una squadra che era anche più scarsa di noi sulla carta, per me è veramente 26 maggio, quella è veramente veramente 26 maggio, cioè una delle figure peggiori della storia della Roma, tra l'altro uno dei video che a me, insomma, mi è rimasto più storico, la gente ancora me lo commenta, però comunque 26 maggio assolutamente. Questa qua che vedete qua, non so se avete capito che cos'è, perché c'è una maglia del Napoli, ma il Napoli non c'entra nulla, è Diavara, con i tifosi del Napoli che scrivovano Diavara a cuore azzurro. Allora, faccio fatica a metterla in capita, però è una situazione che va considerata, cioè la Roma perde a tavolino, una partita perché si scorda di inserire Diavara in lista, non so cose che capitano, sono figure di merda, però poi se dobbiamo parlare di partite, se dobbiamo parlare di risultati, se dobbiamo parlare di quello che effettivamente è successo, cioè alla fine della fiera ragazzi, quella è un pareggio che facciamo a Verona, poi perdiamo a tavolino per un errore di lista, ma è pur sempre un pareggio che facciamo a Verona senza punta, con gioco che dove andiamo alla fine rimane, finisce 0-0 se non vado errato, cioè è una partita che comunque alla fine capita, poi che perdiamo 3-0 perché siamo stronzi, personalmente faccio fatica ad accettarlo. Manchester United da Roma 7-1, che figura di merda. Sì, sì perché ci eravamo gasati tantissimo, sì perché avevamo passato il girone di Champions, avevamo beccato un Lione che sulla carta era più forte di noi, l'avevamo eliminato pareggiando in Francia e vincendo 2-0, con la grandissima prestazione di Manzini e il gol di Totti. Eravamo arrivati a giocare contro lo United pensando di potercela fare, e all'andata avevamo vinto 3-1. Quindi facciamo così, la metto in che figura di merda, perché secondo me ci sono cose ben peggiori. Lo United era un grande United quell'anno, era lo United di Geeks, era lo United di Cristiano Ronaldo ragazzi, cioè era lo United di calciatori straordinari, era lo United di Carrick, era lo United di Alex Ferguson, ed è lo United che poi, il 2007, successivamente avrebbe vinto tutto quanto, e Ronaldo avrebbe vinto il pallone d'oro. Però comunque questo non giustifica il fatto che tu possa perdere 7-1. La metto in che figura di merda, magari non un po' più in basso, perché è giustificato dal fatto che accetto il percorso, quindi aver eliminato il Leone, aver passato il girone di Champions, cosa che per noi non era semplice, considerando che 2005-2006 non eravamo minimamente arrivati in Champions, eravamo stati ripescati per tutto il discorso legato a Calciopoli. E quindi nella stagione 2006-2007, insomma già abbiamo fatto dei grossi passi in avanti per aver costruito una squadra cenerentola che potesse arrivare ai quarti di Champions. Però abbiamo vinto anche 3-1 all'andata con loro, con la gran prestazione di Mirko Vucic, però poi perdere 7-1 ragazzi non ci sta mai, ma noi 7-1 ne abbiamo perso spesso, e metto vorrei sotterrarmi, Roma-Bayern assolutamente sì. Allora, faccio un discorso, sapevamo che avrebbe piovuto, io forse quel video lo chiamai addirittura così, sapevamo che avrebbe piovuto, e lo sapevamo perché c'era nell'aria proprio l'idea di dire e la Roma prende un'altra imboscata, un'altra imbarcata più che imboscata, un'altra imbarcata, prenderemo una sveglia che non finisce mai, faremo un'altra figura di merda. E io lì ero frustrato, perché mi lamentavo e dicevo, ma è possibile che questa Roma, che va a giocare in Champions, deve avere paura, deve cercare di prendere nemmeno possibile? Per me è una cosa inaccettabile, ma questo era quello che succedeva, cioè non succedeva nient'altro che questo. Noi andavamo a giocare contro le grandi d'Europa, sperando di non prendere imbarcate e di non fare figure di merda. Questo è quello che succedeva sistematicamente, sistematicamente. E il discorso è che perdere altrove con imbarcate non ci sta, però è perdere altrove, perdere in casa, 7 a 1, davanti ai tuoi tifosi, a mio avviso è veramente ridicolo, è veramente, veramente ridicolo. E quindi sì, dopo Roma-Bayern, vi dico la verità, volevo sotterrarmi, volevo proprio sotterrarmi. Roma-Juve! Allora, Roma-Juve è una delle partite più recenti che abbiamo giocato. Roma-Juve, noi andiamo avanti 3 a 0, 3 a 1, allora rimontano da 3 a 1 a 3 a 4 con il gol di Desciglio. Che figura di merda! Allora, le rimonte ci stanno, le rimonte sono sempre esistite, le rimonte vanno bene, perché poi può capitare che in una storia, in 20 anni, tu fai delle rimonte, però quella è stata una gran bella figura di merda, ragazzi. Cioè, nel senso, era una Juve comunque abbastanza pezzi, come la vedete negli ultimi anni, tu vai avanti 3 a 1, c'hai la possibilità di accorciare sulla Juve per la Champions, da 3 a 1 a 3 a 4, è inconcepibile. Mi dispiace, ma non posso metterla nel tassello capita, perché queste sono cose che non possono capitare, non possono capitare, punto. e quindi la metto in che figura di merda. E, accudata a questa, ci vado a mettere subito quest'altra, con l'Inter che alza la Coppa, sempre in che figura di merda. Ve la spiego, la Roma, va avanti 3 a 0 dopo mezz'ora, in finale di Super, in finale, l'unica parte di Supercoppa Euro e Italiana contro l'Inter, è il 2006. Ci giochiamo con la Supercoppa Italiana, c'è Inter-Roma, che succede? Succede che siamo stronzi, perché questo è quello che siamo, andiamo avanti 3 a 0 dopo mezz'ora, loro fanno il 3 a 1 a fine primo tempo, nel secondo tempo, la partita loro ce la ribaltano, ragazzi. E noi perdiamo ai supplementari 4 a 3, in Supercoppa Italiana, dando la Supercoppa all'Inter. È una figura di merda gigantesca, è una figuraccia, è una figura gigantesca, abnorme, ragazzi, non si può fare una cosa del genere. Poi in quegli anni, si stava creando il, la lotta tra Roma e Inter, che avevano monopolizzato campionato e Coppa Italia, arrivavano sempre loro, qualche volta arrivava la Lazio in Coppa Italia, ma di rado, e quindi, insomma, stavamo monopolizzando dal 2006 al 2010, anche perché non c'era quasi nessuno, il Napoli veniva su dalla B, la Juventus era retrocesso e doveva ricostruirsi, il Milan ha vinto anche la Champions nel 2007, però con tutti i punti di penalizzazione, insomma, doveva ricostruirsi. E quindi, insomma, c'eravamo solo, noi facevamo questa eterna lotta, tutto dovevete necessariamente dimostrare di poterci stare, vai avanti 3-0 dopo mezz'ora, perdi 4-3, per me è veramente qualcosa, fino a qua, ce l'ho fino a qua, ce l'ho fino a qua. Bodoroma, Bodoroma, 6-1, la vado a mettere in vorrei sotterrarmi, allora, voglio dire una cosa, voglio dire una cosa, Bodoroma, per quanto mi riguarda, è da 26 maggio, qual è il discorso? Che con la Fiorentina tu sei uscito, cioè, tu non solo hai fatto una figura di merda con la Fiorentina, perché la Fiorentina comunque era più forte di quel bodo, ma tu sei uscito dalla Coppa Italia, cioè tu sei uscito come un deficiente, perdendo 7-1 a Firenze, tu lì sei andato a bodo, che era necessariamente obbligatorio vincere perché facevano cagare, cioè i giocatori che lì erano i titolarissimi, da Pellegrino a Solbacca, passando per qualcun altro, qua ragazzi, alcuni non giocherebbero, altri ci sono ma non giocano, questo ti fa capire anche il livello di quel bodo lì, eppure ci sono delle scusanti, la prima scusante, per cui non lo metto in 26 maggio, ma vorrei sotterrarmi, cioè non sono scuse, ma almeno per non metterlo in 26 maggio, è che faceva un freddo cane, faceva meno 10 gradi, giocavamo su un sintetico, cioè su un campo che non era proprio per noi, seconda scusante, il fatto che quella partita tu non l'hai persa 6-1 perché loro ti hanno dominato, cioè tu se non sbaglio, a 20 dalla fine, eri sotto 3-1, e gli ultimi 10 minuti hai preso un gol dopo un altro, ne hai presi 3, cioè tu andai a perdere 6-1 perché hai preso 3 gol negli ultimi 10 minuti, ovviamente questo non giustifica, però comunque si è messa in un determinato modo la partita, il terzo motivo è perché poi quell'anno abbiamo vinto la conference, quindi nonostante tutto il percorso ha poi permesso a quella sconfitta di essere meno pesante negli ultimi vent'anni della Roma, comunque pesante, perché resta comunque a riferto, ma certamente meno pesante, ovviamente tipo era più pesante quello di United 6-2 perché lì siamo usciti, che vedete sopra, vedete nel tassello appena qua sotto, quello del che figura di merda, però comunque era il Manchester United, è come se avessi perso 4-0, ne hai presi 6, ma è come se avessi perso 4-0. Barcellona-Roma 6-1, ovviamente in un contesto in cui, me fa ride perché, perché comunque è così, perché me fa ride, in un contesto in cui ci sono tante goleate prese, io Barcellona-Roma 6-1 lo vado a mettere in capita. Allora, ripeto, non può capitare, però se è andato a Barcellona, era molto più forte, non ne hai presi 7, quindi già è qualcosa, e purtroppo regà è capitato, capita e capiterà sempre che Barcellona, Bayern-Monaco, queste squadre qua fanno goleate, cioè ne hanno prese tante, anche il Porto, ricordo una volta ne ha presi 7 dal Bayern-Monaco, ecco, magari la sconfitta nostra con il Bayern, la metto in vorrei sotterrarmi, perché in casa, e poi perché ci eravamo gasati da morire, non so se vi ricordate, era il 2014, avevamo debuttato in Champions dopo tanto tempo, vincendo 5-1 col CSK a Mosca, poi avevamo pareggiato all'Ethiad contro il City 1-1, raga, 1-1 all'Ethiad col cucchiaio di Totti, cioè nel senso lì eravamo gasatissimi, poi vai in casa, ne prendi 7 dal Bayern, insomma, io tra l'altro ricordo benissimo, ero proprio in questa stanza, guardavo da questa TV qui, che ho qui alla mia testa e voi non vedete, insomma, in quel momento era ancora peggio, Barcellona-Roma, se non sbaglio, è successo l'anno dopo, o un paio d'anni dopo, 2015-2016, però era accettabile, soprattutto perché se non vado errato, quell'anno avevamo poi nel giro, nell'Evercuse, nel Bateborisov, abbiamo fatto anche altre figure di merda, perdendo 3-2 col Bateborisov, eccetera, ma comunque poi siamo passati, siamo passati, poi siamo usciti con Real, se non sbaglio, ma siamo passati, quindi questa partita è meno amara, proprio per quel motivo là, 26 maggio finisce ovviamente in 26 maggio, cioè per forza lì la devo mettere, non posso metterla né sopra né sotto, quella del 26 maggio ragazzi, cioè è stata ufficialmente e decisamente una delle peggiori sconfitte degli ultimi vent'anni della Roma, per la valenza che ci ha avuto, dai finale, è vero, è vero che comunque era la Coppa Italia, non era la Champions, però comunque la finale di Coppa Italia, era il derby, si giocava a Roma, e quindi ci sta, ci sta che faccia parte di quel range lì, per quanto poi vogliamo non dare soddisfazione e dire no non è così, non è così, è così, ci sta, certo io vi dico la verità, ho sofferto più per il 7-1 con la Fiorentina, il 7-1 con il Bayern, ci sono stati momenti in cui ho sofferto di più, ecco il 7-1 con l'Ogialzio era ancora molto piccolo, mi ricordo quanto cazzo ho sofferto, ci sono stati momenti in cui ho sofferto di più, ecco la partita che ricordo che non c'è in questa tier list, ma perché non è una figura di merda, e in cui ho sofferto tanto tanto tanto, ma non l'ho messa perché sennò sarei stato semplicemente fiero, è stata poi la sconfitta 4-2 con il Liverpool, che poi 4-1, 4-2 con il Liverpool, per ritornare il 23-1, non è bastato, siamo stati eliminati, però comunque lì ho sofferto tanto, perché non è tanto da andare in finale di Champions, però sì, sicuramente fa parte di 26 maggio, Insigne, lo vedete Insigne? Eccolo qua quanto è bello Insigne, allora c'è la maglia di Maradona, perché dovete sapere che quando Maradona è scomparso, noi giocavamo subito con il Napoli, e io subito ho detto, vuoi vedere che il Napoli ce ne fa una caterba? E il Napoli ce ne ha fatti una caterba, ci ha assegnato Insigne, poi Fabian, poi Mertens e poi Politano, era il 29 novembre del 2020, la metto in capita, il Napoli era più forte, era più squadra, è tuttora più forte, il Napoli è tuttora più squadra, Napoli squadra completa, il Napoli che doveva anche, diciamo, rispondere presente in onore di Diego Armando Maradona, e quindi, raga, ma di che dobbiamo parlare? Cioè, ma di che dobbiamo parlare? Dai, dai, ma di che dobbiamo parlare? Assolutamente, assolutamente in capita, ci sta, ogni tanto può capitare. Questa qua, la metto in nevado fiero, cos'è questa qua? La sconfitta 2-1 della Roma-Genova contro la Samp, ne vado fiero perché? Perché siamo degli stronzi, perché è così, perché una volta che puoi vincere lo scudetto, e che hai il destino dalla tua, nelle tue mani, tu comunque butti tutto nel cesso. Sì, siamo degli stronzi, però comunque, la Roma lì ha fatto un percorso fantastico, a mio avviso, davvero gigantesco, che gli ha permesso, con Ranieri in panchina, di fare una rimonte, di sognare uno scudetto e danni dell'Inter, poi purtroppo si è ancrollati, ma ci sta, ma può capitare, per quanto mi dispiace, può capitare, assolutamente sì, ciò non toglie che, io non perdonerò mai, di non avermi dato quella soddisfazione, però vado fiero di quel percorso, ancora la ricordo con, diciamo con distruzione nella mia testa, con la partita del 2010, però sicuramente, con amore per quella che è stata quella Roma lì. Concludiamo con questo, e cioè, la Roma che, secondo me quella è Pedro, quindi vabbè l'ho invertito, ma tanto lo metto sempre in vorrei sotterrarmi, Roma spezia ragazzi, io non ho parole, Roma spezia, quella Roma che esce in Coppa Italia, ora, non finisce più in alto, ma per il semplice fatto che, era una, oggettivamente era una Roma che, insomma, famose HP, famose HP, ottavi di finale di Coppa Italia, non erano magari, fosse stata la finale, le semifinali, eccetera, l'avrei messo ancora più in alto, la metto lì, perché comunque, mal che vada, la Roma ha provato, no, la Roma non ha provato un cazzo, sto vagheggiando, il discorso qual è? Il discorso è molto semplice, il discorso è che, erano gli ottavi di Coppa Italia, non può capitare, ma è una figura di merda gigantesca, la Roma fa, gli ottavi di finale contro lo Spezia, io pensate che esco da scuola, prima, quindi firmo, perché Roma ha giorenne in quinto, esco da scuola, vado a vedere con un mio amico, la partita Roma-Spezia, all'Olimpico, ai due di pomeriggio, non c'è un'anima, siamo dieci gatti, nella partita non succede niente, ma non succede nulla, per 90 minuti, per 120 minuti, si fa i calci di rigore, sbaglia Giacomo, sbaglia Golarov, andiamo a casa ai rigori, contro lo Spezia, che tra l'altro era nella parte destra, della classifica di Serie B, qualcosa di impensabile, già oggi, forse quella figura di merda, che abbiamo fatto contro lo Spezia sempre, poi i sette gambi, eccetera, è stata alimentata anche dai sette gambi, dalle espulsioni da quello e quell'altro, però al tempo ragazzi, cioè ai rigori contro la squadra di Serie B, che manco era, si proponeva per andare in A, personalmente fu veramente, 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 veramente vergognoso, questa ragazzi è la mia tier list, ve la rifaccio, ve la rispiego rapidamente, in Neva Dufiero, la partita contro la Samp, in capita troviamo, la sconfitta 4-0 con il Napoli, post Maradona, il 6-1 contro il Barcellona, e la, diavara, diavara, che figura di merda, il 6-2 con lo United, la sconfitta 7-1 con lo United, il 3-4 contro la Juventus, il 3-4 contro l'Inter, sempre in rimonta entrambe, vorrei sotterrarmi le due Roma Spezia, il 7-1 con il Bayern, e il 6-1 contro il Bodo Klimt, poi il 7-1 contro la Juventus, finisce in 26 maggio, e la sconfitta del 26 maggio, ovviamente, finisce in 26 maggio, fatevi sapere, cosa avreste cambiato, con un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buo ce l'alane come sempre, ci vediamo un prossimo video, e io!